Occupiamoci adesso del caso di Mario Congiusta, il padre di Gianluca, imprenditore ucciso a Silenno nel 2005, che ha scritto una lettera al ministro Orlando e chiesto di poterlo incontrare il 21 marzo a Locri. C'è un vuoto da colmare, dice, nella missiva, sottolineando che il 90% delle famiglie vittime non otterrà giustizia. Vediamo. A distanza di quasi 12 anni non riesco ad avere quella giustizia che mi è dovuta. Le parole scritte in una lettera da Mario Congiusta, padre di Gianluca Congiusta, il giovane imprenditore ucciso a Silenno il 21 maggio del 2005 e inviate al ministro della giustizia Andrea Orlando, che sarà presente alla 22esima giornata della memoria e dell'impegno, in ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata che si terrà a Locri il 21 marzo. Ritengo importante, scrive Mario Congiusta, la sua decisione di voler camminare insieme ai familiari delle vittime innocenti, tra i quali ci sarò anch'io, che chiedono solo verità e giustizia. Quella verità e giustizia, sottolinea, che per oltre il 90% di loro non arriverà mai, per svariati motivi che lei conosce meglio di me. Qualche volta però evidenzia quella giustizia annelata non arriva a causa di vuoti legislativi. E questo è il fulcro della missiva e la richiesta al ministro della giustizia colmare il vuoto legislativo, utile a dare un ulteriore strumento ai magistrati per la lotta alla criminalità organizzata. Come lei saprà precisa, la normativa vigente regolamenta l'utilizzabilità come prova solo delle intercettazioni ambientali e telefoniche, mentre non regolamenta l'utilizzabilità della corrispondenza. Congiusta racconta all'esponente di governo la sua amara storia e fa sapere che l'assassino di suo figlio è indultato. Mario Congiusta chiede un incontro al ministro Orlando. Forse conclude potrebbe servire a farmi ritornare l'orgoglio di essere e rimanere italiano.